Grazie a tutti i partecipanti per questa ultima puntata degli Olivetti Design Talk di questa sessione primavera-estate, definiamola così. Per chi si dovesse essere collegato ora per la prima volta è un progetto che era nato da una chiacchierata fra me e Pierpaolo con l'intenzione di fare un racconto intorno a Olivetti andando a prendere tanti asset fondamentali di questa azienda. Abbiamo cominciato dalla fabbrica arrivando subito al concetto di digital farm quindi il posizionamento di oggi e poi abbiamo attraversato il design, i prodotti, i negozi, le architetture per arrivare oggi alle comunità quindi chiudiamo un pochino il cerchio cioè siamo partiti dalla fabbrica e arriviamo alla comunità quindi è importante anche questo appuntamento anche per gli ospiti che sono con noi per raccontare un pochino, noi parliamo spesso di human centricity e quindi di quello che è un approccio della storia olivettiana ma di quello che è anche Olivetti oggi che ruota intorno all'uomo e quindi questa è la puntata giusta per fare questo percorso. Sicuramente in autunno proseguiremo magari dal vivo visto che l'idea di fare questi incontri era di farli dal vivo e quindi speriamo in bene che si possano fare. Lascierei la parola a te Pierpaolo così facciamo un approfondimento su cui c'è oggi. Sì, allora intanto grazie a tutti, grazie Gaetano, grazie a tutti per essere qui come diceva Gaetano siamo all'undicesima puntata di questo segmento che riguarda principalmente la primavera e l'estate e oggi parliamo di comunità allora questo termine intanto viene evocato spesso in contrapposizione a società quindi parliamo di una coppia concettuale proprio società-comunità e in alcuni casi in termini comunità perso mordente si assiste spesso anche a una certa ritorica intorno a questo sostantivo. Ecco, oggi consideriamo principalmente comunità intanto come un progetto un progetto politico, un progetto culturale, un progetto imprenditoriale chiaramente legato alla figura di Adriano Olivetti quindi un termine che come dicevamo se negli ultimi diciamo 10-15 anni ha perso un pochino di mordente in realtà invece è un termine che ha una profondità di significato come diremo oggi una profondità di significato molto molto importante principalmente collegata alla figura di Adriano Olivetti quindi parleremo di comunità oggi nelle sue diverse articolazioni quindi comunità come edizione di comunità parleremo di comunità come movimento quindi come partito politico parleremo di comunità anche come rivista fino ad arrivare naturalmente all'ordine politico delle comunità questa pubblicazione io in particolare ho la seconda edizione 1946, un libro pubblicato alla fine del 1945 in realtà ed è stato scritto questo libro quindi mi sto fermo in realtà soltanto su questo perché è il testo fondativo dell'opera politica e sociale di Adriano Olivetti in un libro che è stato scritto principalmente in Svizzera ecco dopo l'8 settembre del 43 come noto molti intellettuali antifascisti tra questi Inaudi, Panfani, Olivetti e molti altri molti ingegneri anche Gustavo Colonnetti e architetti come Ernesto Nathan Rogers abbandonano l'Italia e riparano in Svizzera ebbene in Svizzera come dire si crea un primo nucleo di dibattito sul tema della ricostruzione e questo avviene principalmente a Lausanna Lausanna dal giugno del 44 viene creato un centro studi per la ricostruzione presso proprio l'università di Lausanna e il direttore di questo centro è Gustavo Colonnetti che era stato prima rettore del Politecnico a Lausanna tra l'altro viene pubblicato un bollettino che viene chiamato proprio bollettino del centro studi dal giugno 44 all'aprile del 45 tra l'altro Adriano Olivetti ritorna poi in Italia dopo l'11 aprile del 45 ebbene voglio soltanto citare un testo che lui scrive proprio per questo bollettino che ha come titolo in francese La funzione politica dell'urbanistica ebbene questo testo è una sintesi di un capitolo dell'ordine politico della comunità quindi questo libro che ho già citato prima e quindi questo testo molto importante che viene pubblicato per le nuove edizioni Ivrea qui dentro ci sono una serie di proposte molto concrete infatti si parla di comunità concreta sulla base proprio del movimento comunità che viene fondato a Torino nel 1948 e qui la cosa interessante appunto in questo testo che viene pubblicato nel bollettino del centro studi che si cerca di confrontare proprio l'ordinamento politico elvetico con invece l'organizzazione delle comunità quindi lui prova proprio a confrontare alcune anche come dire terminologie come comune, cantone e confederazione da una parte e dall'altra invece la comunità, la regione e la federazione chiaramente c'è una prima riflessione sul termine comunità, ripeto, in Svizzera che poi diventa questa pubblicazione ecco, oggi parleremo di tutto questo parleremo di tutto questo con vi vedete con Giuseppe Lupo con Enrico Loccioni e con Paolo Verri ve li presento rapidamente Giuseppe Lupo intanto laureato presso la Cattolio Università Cattolica di Milano con una tesi su Leonardo Sinisgalli che figura, come dire, molto importante un ingegnere che ha collaborato e lavorato molto per Adriano Olivetti ha un dottorato di ricerca anche in critica teoria e storia delle letterature e delle arti questo è sempre la Cattolica ha scritto numerosissimi saggi voglio citare in particolare la letteratura al tempo di Adriano Olivetti del 2016 per le edizioni di Comunità poi ha scritto numerosi romanzi anche collaboratore per le pagine del Sole 24 Ore insomma un curriculum piuttosto denso quindi ho fatto una super sintesi Paolo Verri invece è il direttore di Ocean Race di Genova lo vedete sulla destra al telefono in questo momento un manager culturale è già direttore di Matera 2019 capitale europea della cultura direttore, quindi vado un po' in là nel tempo è stato anche direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 93 al 97 e poi dal 2000 al 2006 direttore anche del piano strategico della città di Torino Paolo Verri e ti ho riassunto un pochino ero io con il mio sindaco attuale ero io con Marco Bucci proprio adesso scusate perfetto dopo un incontro importante però allora aggiungo aggiungo una cosa Pier è anche la persona con cui abbiamo lavorato insieme nell'ottica di comunità per portare avanti la candidatura di Ivrea Capitale del Libro 2022 visto che la candidatura è tutto il dossier l'ha scritto Paolo e quindi ruota tutto intorno a lui anche in questo caso fantastico comunque Paolo ho riassunto un po' alcuni tuoi elementi biografici il suo passo a Enrico Loccioni invece imprenditore marchigiano fondatore e presidente dell'omonima impresa cosa fa questa impresa Enrico dimmi se ho capito bene perché non è così facile sviluppa sistemi automatici di misura e controllo per migliorare direi la qualità l'efficienza e la sostenibilità di prodotti e processi industriali tra i clienti Ferrari Bosch Whirlpool eccetera eccetera ebbene conosceremo un po' bene scusami la sua azienda l'azienda Loccioni che scusami Gaetano stavi dicendo no volevo solo aggiungere una cosa su Enrico Loccioni perché ci siamo incrociati su un progetto di comunicazione di team anni fa ed è molto interessante il suo chilometro di futuro che ma scusa ti ho interrotto no no prego prego che insomma questa azienda che in realtà è un'azienda a bassissimo impatto ambientale perché è collegata a una rete intelligente di energia che alimenta tutti i laboratori con fonti rinnovabili però segnalo ancora questo che direi che è molto importante nel 2004 laurea onori scaugo conferita dall'università di Camerino e poi nel 2015 il titolo di cavaliere del lavoro conferito dal presidente della repubblica complimenti e se n'è andato aiuto non ho sbagliato qualcosa bene allora Giuseppe ah ecco qua fantastico ecco qua Armania imprenditore Olivettiano e questo nel 2008 infatti parleremo infatti diffusamente di Enrico soprattutto come motore di una nuova idea di comunità ecco di azienda olivettiana allora Giuseppe abbiamo citato più volte in questa introduzione il treno delle comunità ecco dal tuo punto di vista visto che sei autore anche di numerosi testi collegati comunque alla cultura olivettiana ecco che cos'è la comunità va bene allora grazie a voi per avermi invitato voglio dire in questo ci vengo sempre molto volentieri in questo mondo olivettiano saluto molti amici ieri sera se non mi sbaglio c'è stata una trasmissione dedicata alle industrie loccioni io ho visto mi sembra che fosse quella insomma allora io sono un letterato quindi mi sono avvicinato al mondo olivettiano dal punto di vista della letteratura perché c'è una grande letteratura legata al mondo industriale e a quello olivettiano nel senso stretto comunità è sì come tu dicevi Pier diciamo il progetto politico ma diventa il nome della casa editrice diventa il nome della rivista diventa insomma è e poi del movimento politico nel senso stretto quindi è praticamente credo che sia il cuore dell'olivettismo no del diciamo di questo umanesimo industriale che Olivetti mette in piedi mi sono fatto questa idea perché che poi naturalmente questo nasce anche in un contesto particolare in una nazione che si avvia a diventare repubblica perché in fondo è questa l'Italia in cui Olivetti sta cominciando a scrivere questo progetto in questa nazione che diventa una nazione statale ma dove come dire Olivetti credo che abbia avuto timore che il grande raggruppamento la grande nazione l'estensione di idea diciamo di stato potesse azzerare potesse diciamo schiacciare gli interessi locali tant'è vero che l'idea di una comunità non è soltanto legata al tema dell'industria anche Musatti quando scrive la via del sud pensa a un'idea di mezzogiorno che è un'idea di mezzogiorno per comunità cioè la comunità riesce a soddisfare i bisogni dei locali senza perdere di vista però senza eccedere senza diventare provincia senza diventare una una parzialità cioè la comunità ha questo vantaggio in Olivetti in Olivetti il problema rimane la persona e non l'individuo e in quanto persona ecco la comunità riesce a soddisfare i bisogni o le esigenze della persona altra cosa invece sono è quell'assetto diciamo delle diverse province allora ancora non c'erano le regioni sarebbero state nate negli anni settanta altra cosa è l'idea un po' dei partiti di massa che Olivetti teme tant'è vero che Olivetti magari anche legandosi a quello che scriveva Simone Weil insomma aveva un certo timore anche dei grandi partiti di massa proprio perché il termine l'idea di massificare di considerare potesse minacciare perché insomma c'è una grande cura nei confronti dell'individuo ora il discorso politico è un discorso come dire che alla prova dei fatti risultò fallimentare Olivetti non ce la fece a imporre per diverse ragioni ma è chiaro che è stato schiacciato si è trovato schiacciato da un problema da due grandi partiti ma forse si è stato schiacciato dall'anima di questa nazione la nostra anima almeno nel novecento è una nazione cattolica e dall'altro lato è una nazione fortemente marxista per cui il suo progetto di terza via che è secondo me il novecento più bello sarebbe da scrivere una storia della terza via nel novecento quella di Olivetti è una variabile diciamo di terza via non l'unica ma credo che sia l'aspetto vincente del novecento anche se di un novecento sconfitto non ha importanza che esca sconfitto questo novecento anche il novecento di Piero Gobetti è un novecento sconfitto ma non fa nulla però rimane il novecento più bello ecco all'interno di questo percorso Olivetti si trova schiacciato da questi due grandi partiti da queste logiche bassificate e la sua idea quindi come dire sul momento fallisce come credo che fallisca io ho a disposizione dieci minuti non voglio abusare insomma come credo che sembrerebbe fallire anche come dire in realtà non è così l'idea di modernità io insisto molto su questo discorso della modernità che ha molto a che fare con la comunità cioè la chiudo molto molto brevemente noi siamo abituati a pensare al moderno come si è manifestato nel novecento come le fabbriche le periferie le ciminiere lo smog lo sfruttamento cioè diciamo le dinamiche a cui siamo abituati da questa tradizione che è il novecento a cui la cultura e gli uomini di cultura hanno reagito contrapponendo cosa? un atteggiamento antimoderno il rifiuto il rifiuto ideologico il rifiuto di queste istanze della modernità io ho l'impressione ma questo l'ho scritto nel libro di cui tu facevi dicendo che Olivetti abbia progettato e il termine progettare non lo uso a caso perché c'è molto olivettismo nel termine progettualità abbia progettato un'idea di contro modernità cioè se la modernità è quella a cui siamo abituati è la Fiat Milafiori come la Breda di San Giovanni o la Falc di Milano quella è una proposta di modernità passibile di obiezioni e quindi come dire nei presupposti di un'antimodernità un atteggiamento antimoderno la comunità è la risposta a questa idea di modernità che non è il rifiuto di quella modernità ma è la riscrittura del moderno con un altro codice allora io ho l'impressione che la comunità per Olivetti sia stata anche una maniera per riscrivere le regole del moderno le regole della modernità industriale alla luce di questo non la periferia di Milano o Torino ma la piccola comunità decentrata Ivrea ma come Ivrea altre comunità dovevano nascere no? che però riesce a essere una cellula dove in fondo i bisogni umani i bisogni delle persone come dire siano in equilibrio con le esigenze politiche con le esigenze produttive cioè questo è un po' il discorso insomma la comunità sia un po' la risposta contro moderna non anti moderna contro moderna è la riscrittura del moderno che fa Olivetti e questo credo che sia appunto una una risposta vincente al momento non ce la fece a imporsi per le ragioni che sappiamo però alla lunga distanza i distretti i distretti industriali piccoli sono stati sono andati nella direzione della comunità perché in fondo è questo quello che si vuole cioè fare un equilibrio tra la produzione e e e l'accondentare e far felici gli uomini cosa molto banale detta così ma poi in fondo non è così banale ecco questo è quello che a me sembra giusto sottolineare grazie molto giusto sì assolutamente d'accordo Paolo faccio scusami di riscrivere riscrivere le regole della modernità industriale molto bello sì sono temi poi sono temi sempre attuali contemporanei sempre di più no perché è corretto Paolo faccio una domanda a te invece e allora comunità significa tante cose come abbiamo detto e come ci stiamo dicendo ma sicuramente anche no cittadinanza cultura e ambiente quindi sono concetti che possono essere vissuti individualmente oppure mixati mixati fra di loro e quindi degli esempi li abbiamo li abbiamo avuti nel passato li abbiamo li abbiamo anche oggi qual è il tuo il tuo punto di vista ma anche partendo se vuoi dalla dall'esperienza di Matera 2019 che prima Pier ha citato e che abbiamo vissuto insieme quando ero quando ero in team quindi rivedo il questi ingredienti rimescolati e rivissuti anche in altre esperienze precedenti e me li vedo e me li aspetto anche in quello che è il progetto che è stato mandato al al ministero per vivere a capitale del libero 2022 quindi ci sono tante cose che sono ricorrenti fra di loro ti lascio la parola beh grazie molte per l'invito io sono un amico di vecchia data ormai diciamo così del mondo olivettiano come ricordava anche prima Bruno Lamborghini lo devo a una amicizia vera profonda con Laura Olivetti con la quale ci siamo conosciuti proprio nei primi mesi di quando io ero stato chiamato a Matera per scrivere il dossier di candidatura insomma quando ancora non si era compiuto niente e c'era uno stato aurorale molto molto interessante io trovai una comunità già allora soprattutto di giovani operatori lucani non materani per la maggior parte direi non materani proprio ma la maggior parte potentini che avevano una grande voglia diciamo così di ispirarsi alle storie del passato ma soprattutto di usare questo grande archivio che era era già potenzialmente in essere per fare per fare la storia della contemporaneità cioè per lavorare sul contemporaneo e questa cosa sembrò a tutti noi che andammo lì chiamati dalla regione Basilicata dal comune di Matera dall'università di Basilicata una grande opportunità per metterci in gioco no? nel senso che non era un posto dove nessuno di noi poteva andare a insegnare niente né voleva andare a insegnare niente io venivo appunto dall'esporienza di Torino del piano strategico di Torino delle Olimpiadi del centocinquantesimo dell'unità d'Italia ma nonostante tutta questa esperienza alle spalle non eravamo in grado di insegnare nulla eravamo lì invece molto per imparare per ascoltare e per capire ed era già chiaro che le aree interne del paese erano assolutamente un grande una grandissima opportunità di cambiamento della società italiana qualcosa che proprio questa pandemia ha messo in luce e che adesso diventa evidente proprio nelle nuove forme di economia di turismo di cultura di associazionismo che stanno prendendo non piede perché ce ne erano già ma consistenza e abbiamo riflettuto molto anche con Francesca Limana che qui che ringrazio con molte altre persone del mondo Olivetti di come quella tradizione potesse appunto essere fruttuosa per il contemporaneo perché evidentemente c'era stata una grande capacità di anticipare che come ha detto benissimo Giuseppe Lupo era schiacciata dalla massificazione novecentesca oggi quell'insegnamento invece ha una possibilità di essere messo alla prova e di essere realizzato molto grande e paradossalmente sono proprio i social media che hanno reso possibile tutta una serie di cose no? La possibilità di lavorare sulla qualità delle relazioni di non dover parlare a tutti contemporaneamente di poter parlare a gruppi precisi di poter chiedere un ingaggio a un numero determinato di persone che hanno voglia di fare qualcosa per un certo periodo di tempo quindi nel concetto di massa togliere il numero ma anche la temporalità una temporalità che prevedeva che per tutta la vita bisognava fare le stesse cose invece oggi abbiamo una vita in cui abbiamo una vita decisamente più lunga no? Nel senso che non è non abbiamo più le classiche tre età non abbiamo da 0 a 20 da 21 a a 65 da 65 a poco più no? Abbiamo una vita con 4-5 ere diverse dove ciascuno può cambiare non soltanto la propria storia ma anche può mettersi in una posizione diversa nella propria contemporaneità può avere funzioni molto molto diverse in questo la cultura ha un ruolo molto molto forte e molto proficuo e proprio oggi mi è arrivata una piccola notizia che ho messo insieme diciamo così cioè un lavoro per esempio che è la città di Prato un'altra città interessantissima da questo punto di vista no? Una città super industriale ma praticamente quasi sconosciuta come nomea propria no? Nel senso che pur avendo un archivio di contemporaneo pazzesco avendo il primo cento di archivio contemporaneo prima di quello per Castello di Rivoli e così via non ha mai avuto la possibilità diciamo così di di far propria un'identità di comunità e non è un caso che abbiano scelto per esempio Virgilio Sieni che ha lavorato proprio tantissimo insieme a noi a Matera un grande coreografo e danzatore contemporaneo e a Matera con Virgilio abbiamo proprio lavorato per esempio per fare un lavoro che voglio qui citare perché mi sembra emblematico per mettere insieme madri e figli che non si erano mai più incontrati quindi con un valore strumentale della cultura lasciatemi dire ma strumentale non per produrre economia neanche per produrre nuova società ma anzi per produrre migliori relazioni fra gruppi familiari che si erano allontanati lavorare a Matera tra il 2011 al 2020 non è stato soltanto un grande onore una grande opportunità è stato qualcosa che a me ha veramente totalmente trasformato ha trasformato dal punto di vista del cuore proprio della passione dal punto di vista sono tornato a Matera due settimane fa dopo 16 mesi che ci portavo in tema mia moglie nonostante adesso sia molto più difficile di prima abbiamo praticamente deciso che adesso dobbiamo veramente comprare casa a Matera perché ci sentiamo profondamente materani la distanza ci ha messo voglia di diventare cittadini in ogni modo in ogni in ogni costo questa cosa molto rapidamente come è entrata a far parte di questo sguardo eh di candidare Ibrea Città del Libro perché questa cosa è stata possibile come può essere eh interessante beh intanto anch'io come Giuseppe comincio come eh nel mondo editoriale comincio come editore poi divento direttore del Salone del Libro di eh di Torino divento direttore della comunicazione dell'Associazione Italiana Editori mi occupo di far leggere di più produco una trasmissione famosa e di grande successo come per un pugno di libri che ha avuto il compito proprio di riportare nelle case la lettura in maniera simpatica divertente anche certe volte minimamente trasgressiva la lettura non come obbligo ma come assoluto piacere e divertimento e scoperta e quindi abbiamo deciso di candidare Ivrea non guardando al suo passato ma guardando al futuro del libro quindi facendoci delle domande significative cioè domandandoci se certe cose che si dicono oggi dei libri sono veramente in opposizione o invece non sono eh funzionali e reciproche uno all'altro cioè se il digitale e il materiale sono veramente oppositivi se l'iconico e il sillabico sono veramente oppositivi se la quantità e la qualità sono veramente oppositivi noi non vogliamo dare risposte vogliamo offrire Ivrea per un anno almeno come piattaforma in cui fare queste discussioni lo facciamo in previsione della nascita della nuova biblioteca civica che la fondazione Guelpa sta diciamo così finanziando lo facciamo anche in virtù del fatto che questa nuova biblioteca civica non verrà costruita sulla base dell'idea di qualcuno ma sulla base di un ascolto costante dei cittadini e diventerà come è successo per esempio a Londra grazie a un terronese bravo come eh come Dogliani eh un luogo dove ci saranno proprio degli idea store cioè dove la biblioteca sarà innanzitutto un luogo di incontro un luogo dove si si prendono i libri ma soprattutto si incontrano le persone credo che quello che diceva prima appunto Giuseppe e concludo sia molto importante cioè siamo a una frontiera eh io credo molto significativa della contemporaneità siamo in un momento in cui ehm mi sarebbe piaciuto parlare solo di questo l'ho detto a a a Gaetano e è uscito un articolo molto bello di Adriano Favole sulla lettura del Corriere della Sera eh questa domenica una recensione abbastanza argomentata all'ultimo libro di Maurizio Ferraris pubblicato dalla terza che si chiama Documanità filosofie del mondo nuovo è un libro che non ho ancora avuto modo di leggere ma conoscendo benissimo Maurizio e se e essendo la 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 recensione molto argomentata eh diciamo così ne posso veramente surteggiare due argomenti che mi piacciono molto molto da vicino cioè mi sembra che ci sia una grande sfida del contemporaneo che il termine comunità ci aiuta a discutere che è la sfida del libero arbitrio lo dico veramente in due parole Giuseppe io peraltro siamo anche cattolici ovviamente non dissidenti non si è più dissidenti da niente in questo mondo però cattolici impegnati cioè ci riflettiamo certe volte crediamo di più certe volte di meno certe volte una sfida che ci è più facile altre volte c'è una sfida che ci è difficilissima come qualsiasi tipo di fede pensate per me che sono cattolico e tifoso del toro pensate che difficoltà assurda che è il quotidiano diciamo così ma al di là delle battute allora perché la sfida del libero arbitrio è importante oggi perché noi oggi possiamo sapere attraverso il big data cioè Olivetti vivo i big data sarebbero un argomento straordinario per dar da mangiare tutto il mondo senza nessun problema cioè noi le principali cinque grandi nazioni del mondo più le tre grandi nazioni digitali come le chiama Baricco nel suo libro The Game da sole hanno i dati di tutti avere i dati di tutti vuol dire che si può produrre per ciascuno quello che serve questa cosa che teoricamente è possibile non solo è una grande opportunità ma è anche qualcosa di drammatico perché vuol dire venire in meno rispetto al libero arbitrio di ciascuno di che ruolo si vuole rispetto al mondo quindi che ruolo vogliamo da parte dei singoli rispetto al mondo cioè accettiamo un ruolo post socialista dove i big data ci rendono tutti responsabili e come in un certo tipo di Cina rappresentato in una bellissima mostra che si è svolta al Castello di Rivoli l'anno scorso curata da Karolin Christophe Bakargaev la reputazione fa sì che ciascuno si debba comportare in un certo modo perché se no si è fuori dalla società la nostra reputazione non è rispettata oppure abbiamo ancora la libertà veramente di scegliere e anche di trasgredire di trasgredire rispetto all'attesa della società per avere il diritto di dissentire e di immaginare società nuove rispetto a quelle che ci dà il contemporaneo ecco credo che fare comunità sia questo cioè avere un luogo dove il dialogo è aperto non è predittivo non è formato sulla base dei bisogni dei numeri ma invece è formato sulla capacità di continuare a immaginare mondi nuovi a seconda delle volontà dei singoli gruppi di individui questa è una sfida secondo me molto importante per il contemporaneo che fa venire meno la sfida dell'economia basata sul denaro e invece mette in luce la nuova sfida del contemporaneo cioè della società basata sulla reputazione non valoriare ma sulla valutazione numerica di una cosa che Dave Eggers in the circle ha scritto in maniera molto chiara e che viene molto discussa ovviamente anche da tantissimi antropologi e da tantissimi filosofi contemporanei c'è sul fatto che la contemporaneità non possa essere basata sui numeri ma sulla capacità individuale di fare comunità grazie Paolo grazie molto giusto tutto ecco l'idea di parlare di numeri è un bell'assist anche per come dire toccare anche il tema dell'azienda ecco mi rivolgo a Enrico Loccioni che prima ti ha fatto vedere il premio imprenditore Olivetti Olivettiano è un premio molto importante quindi magari chiediamo proprio Enrico come come possiamo applicare questi insegnamenti insegnamenti di di Adriano Olivetti all'impresa contemporanea lei tra l'altro l'ha fatto ecco quindi quali sono i segreti materiale di cui parlare veramente è tanto potremmo star qui in sacco di tempo però rifacendo proprio i percorsi nel vedere la Olivetti tutta come ispirazione come modello ho sotto mano un tra tanto materiale ma anche gli incontri fatti con i nostri maestri a parte Bruno Lamborghini per primo perché poi con lui che abbiamo contribuito a dialogare a confrontarci però c'è un un foglietto sotto mano del un appunto del maggio 2008 sui progetti Olivetti con Francesco Novara e Sandro Sartor che Novara veniva qua diceva appunto per perché voleva imparare il presente che viene a fa Francesco perché vieni qua imparare il presente poi attaccava attaccava un discorso che non finiva più però annotavo e se ci ho scritto ancora perché ve le trasferisco perché le condividi cioè Olivetti ti apriva un mondo che l'università non ti offriva lui è stato in Olivetti dal 55 al 92 Adriano aveva creato una casa editrice l'idea di Adriano di trasformare il lavoro Camillo Bursio con Camillo con Bursio Camillo con Bursio preciso che comunque avendo studiato insieme con Bruno anche la storia di Camillo di Camillo è sicuramente l'innovatore Adriano Camillo è stato l'imprenditore cioè è stato quello che ha avviato avviato l'impresa ci siamo ci sentiamo sì 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 sentiamo Enrico sentiamo perfettamente ho visto scomparire tutto Adriano quello di Adriano era l'obiettivo di creare un ordine flessibile per potersi auto-organizzare l'auto-organizzazione interessato alle scienze umane aveva una ritondanza di dirigenti per pensare anche al futuro questo per l'apertura al futuro far crescere dal basso con la scuola di meccanici questo se non c'è cultura non c'è capacità di giudizio e assunzione di responsabilità non obbedienti ma leali e responsabili i benefit non sono sostitutivi della motivazione un'impresa che ambiva all'eccellenza e non si accontentava della suffigenza sono messaggi veramente tutti utilizzabili nell'attuale lavoro l'impresa è la prima volta che sento parlare di comunità l'impresa è un bene comune e non un interesse privato il profitto è un dovere se non crei ricchiesta non distribuisce l'impresa è una comunità che sta in una comunità territoriale e questo credo che sia che sia proprio il centro di questo argomento della comunità se ci sono fatti i comuni inteso come comunità ognuno impara dall'altro perché c'è un obiettivo comune c'è un un perché comune tra differenti culture guardare con gli occhi degli altri le visioni di comunità ma ne abbiamo già parlato e poi il Camillo Olivetti che diceva appunto detto da Novara non so se l'ha detto Camillo Olivetti ma l'imprenditore è un produttore e un organizzatore ma non uno speculatore questi sono dei messaggi dovuti appunto a questo ricorso della comunità ecco dietro questo sviluppo del del linguaggio che in noi Maria Paola che segue da anni un po' questa cosa qui effettivamente mettere a metodo l'oggettività del metodo ci ha aiutato a crescere a sviluppare questa questa straordinaria impresa che veramente fino ad oggi almeno poi speriamo che lo faccia domani dopo domani e nei prossimi giorni però con questo ritornare indietro al futuro utilizzando uno schema che è poi questo qua c'è scritto archivio ISAO perché il nostro design che purtroppo non c'è più ci ha insegnato queste cose più tendi l'arco indietro e più la freccia naturalmente acquista potenza verso il futuro pensando appunto al lavoro e pensando alla combinazione tra scuola scuola e lavoro questo credo che sia lo schema che ci ha portato a sviluppare un po' di cultura molto indietro da cui prende originariamente l'impresa che è la cultura territoriale dei monaci e dei mezzaderici parliamo di mille anni di storia andando indietro noi stiamo facendo un progetto in area rurale al centro di quest'area c'è un'abbazia dell'anno 1000 che abbiamo preso in gestione per valorizzare la storia le comunità intorno all'abbazia compreso poi lo sviluppo agricolo è un modello che sicuramente ha dietro tanta tanta conoscenza tanta competenza e le comunità erano quelle cioè le comunità intelligenti che gestivano e valorizzavano territorialmente luoghi costruivano cose nuove lasciavano meglio di come avevano trovato questa cosa qui secondo me come modello potrebbe essere ripresa l'abbiamo ripresa da 2017 un po' questa attività di rivalorizzare in un'area vuota dove non c'è più niente ripartendo semplicemente dall'abbazia come monumento storico come rappresentativo del passato la comunità con due monaci che il sabato di sera alle 7 passano a dire la messa ecco che piaccia o no poi la gente molto spesso ferma chiacchierà fuori come è sempre successo però rivedere comunque intorno a questo monumento storico la rifrequentazione di persone anziane che magari non abitano più qua e la frequentazione di chi ne ha sentito parlare ho visto veramente con soddisfazione ricostruire quella è la vera comunità cioè dove non c'è un non ci sono diversi diversi scopi per cui nascono le contraddizioni cioè ma c'è veramente il bene comune il fatto comune che diceva appunto Novara prima questa questa esperienza della comunità è anche quella della nostra impresa come impresa famiglia e famiglia allargata cioè la nostra impresa e tutta e tutta l'attività che anche mettendo insieme tante altre cose il territorio d'altra parte non c'è impresa senza territorio e non c'è territorio senza impresa insomma questo credo che sia fondamentale per il fatto che il lavoro produce ricchezza e credo che questa questa impresa in effetti in questi anni non solo di ricchezza legata proprio ai bilanci ma ha prodotto veramente competenze che oggi credo che sia una delle cose più necessarie per lo sviluppo dei progetti per cose ecco la comunità che la vediamo un po' infatti questi laboratori fatti negli ultimi tre o quattro anni il buono Norberto Padrignani altro olivettiano che abita in Ivrea un ex martigiano lui è venuto qui per da anni a fare lezioni sul coding agli insegnanti a 280 insegnanti di questa comunità locale delle scuole e così via ecco lui questi laboratori li chiama l'ambassia tecnologica tanto per dare comunque un certo ecco noi li stiamo un po' catalogando riprendendo storie anche chiamandoli appunto come laboratori rinascimentali cioè c'è un un modo di lavorare diverso dalla fabbrica no? proprio come lavoro come coinvolgimento come come lavoro e credo che sia anche e anni che almeno anch'io sentivo parlare di questo discorso almeno da trent'anni che si comincia a parlare del nuovo rinascimento credo che possiamo proprio ripartire dal lavoro ripartiamo da tante cose belle che ce ne sono e so che magari se ne parla poco però il fatto che ci troviamo a parlare di un modello di un'impresa che magari c'è più poco di quello che è originale però il fatto che se ne continua a parlare significa che ha lasciato dietro dei buoni dei buoni segni che sono le cose che nel tempo nel tempo sono queste le cose che valgono nel tempo perché le cose che si contano e quelle valgono nel breve le cose che contano sono quelle di cui stiamo parlando adesso grazie grazie Enrico aggiungo aggiungo un'altra solo un stavo dimenticando una cosa gli insegnamenti che abbiamo raccolto da Olivetti a parte il Vangoni venditore primo olivettiano che veniva da noi erano piccoletti con i calendari gli oggetti gli articoli ecco a me mi interessa sempre quella cosa lì questo è il vero design non solo il design del prodotto ma il design del progetto qui c'è un design di progetto dell'Olivetti che veramente va valorizzato raccontato diffuso insomma può essere una scuola per tutti come quella di Monace vero verissimo hai toccato il tema del design adesso noi stiamo facendo questo percorso che si chiama Olivetti Design Talks allora parlando di eredità noi Olivetti oggi come eredità si racconta con una frasetta nata come sintesi di comunicazione quindi design meets technology che vuole unire un pochino le due anime che sono state sempre al centro dell'azienda con l'innovazione come filo conduttore quindi vi faccio faccio a tutte e tre cominciando da Paolo la stessa domanda cosa significa per voi l'eredità di Olivetti guarda sono molto contento che Enrico abbia parlato di Camillo che io sono un grande lettore delle lettere di Camillo e concordo assolutamente del fatto che è un'eredità che non è soltanto quella di Adriano cioè è un'eredità di stile io ho avuto la fortuna credo che Giuseppe Lupo nemmeno lo sappia prima di diventare direttore del Salone del Libro nel 92 ho portato Volponi a fare una discussione su città e letteratura e anche con Claudio Magris e poi l'anno due anni dopo portai Giovanni Giudici a fare una lunga lezione sulla comunicazione pubblica e la letteratura no cito questi due nomi ma le potrei ovviamente citare a decine e Giuseppe le puoi citare molti più di me cioè l'eredità è la capacità di vedere e Enrico ci ha fatto bellissimo vedere in questa immagine dell'arco teso di questa scocca che va molto all'indietro per tracciare percorsi molto 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 davanti l'eredità è di vedere l'umanità nel suo percorso e non nel momento in cui la stiamo non ti sentiamo più Paolo no Pierpaolo mi ha tolto il sonoro stavo dicendo delle cose che non gli piacevano scherzo scusami stavo che sentivo dei rumori ho beccato te non è andata male tranquillo tranquillo ci mancherebbe per cui secondo me insomma la capacità per dire per dire un termine che a me piace molto è di guardare l'umanità come stirpe e non come singoli cioè credo che niente come il contemporaneo ci faccia capire veramente che noi non contiamo nulla come singoli contiamo se ci vediamo in una dimensione lunga del cambiamento e sappiamo di essere una parte magari magari troppo influente di questo di questo cambiamento che però si fa se noi abbiamo la volontà di contribuire insieme agli altri quindi l'eredità è questa consapevolezza che ciascuno può fare il meglio ma che sicuramente non vale niente il fatto di far da solo e questo credo che nel contemporaneo per esempio di un insegnamento enorme cioè tra l'altro è un insegnamento proprio alla base della democrazia ma non soltanto della democrazia di chi sta sulle vette della democrazia ma di chi deve fruire della democrazia cioè in particolare i votanti dovrebbero essere ben bene educati sul fatto che nessuno è voglio dire è inutile ma neanche nessuno può fare tutto c'è questa tensione ogni volta a riprodurre specialmente in Italia il fatto che uno solo possa fare il cambiamento diciamolo per uno che che nessuno può smentire neanche Draghi può fare tutto da solo anche Draghi riusciremo a fare il PNRR se lo metteremo nelle mani delle comunità se lo spiegheremo tutti se lo faremo diventare un processo se avrà tempi lunghi eccetera eccetera questo è l'insegnamento guardare nel lungo periodo guardare insieme a tanti e se posso dire un'ultima cosa che secondo me è un grandissimo insegnamento delegare non dico così non entro delegare cioè prendere i più bravi e dire ma tu sei il più bravo a scrivere quindi se ci sarà bisogno di usare le parole tu sei il più bravo a fare immagine se ci sarà bisogno di immagini tu sei il più bravo a fare la tecnica se ci sarà bisogno di tecnica mettetevi insieme e poi tornate con una cosa io non voglio saperne niente di come lo fa mentre invece abbiamo l'idea che anche nel capitalismo selvaggio italiano uno sappia fare tutto invece ciascuno deve fare la sua parte anche con un certo uso un ultimo termine e poi mi taccio con una certa metriotes stamattina mi sono svegliato una certa misura una certa misura una certa consapevolezza bello spunto grazie Enrico faccio la stessa domanda a te cosa significa per te l'eredità di Olivetti ma è quello di poter poi raccogliere queste verità e trasmettere prima si parlava dei libri proprio con Pacchioli con Bruno abbiamo cominciato proprio da Camillo Olivetti raccogliere le esperienze le cose che si possono trasmettere il coraggio di Camillo di andarsene in America in un tempo in un contesto diverso da quell'odierno e fare delle cose e saperle vendere credo che quello sia stato veramente il gene imprenditoriale non l'imprenditore il coraggio dell'imprenditore in continuità con questo però Adriano è stato l'innovatore cioè nel senso il come fare le cose come farle farle in maniera diversa sicuramente questo questo ci insegna in tempi diversi da questi che forse ecco questa modalità aperta del coinvolgimento della comunità di lavorare per fili un po' più alti credo che sia questo l'insegnamento che lui ci trasmette ritorno un attimo sui libri perché se se ce ne avete bisogno o meno noi abbiamo fatto dei lavori proprio a suo tempo con Bruno lavorando proprio sul design di Roberto Adriano Camillo abbiamo raccolto in tempi dove c'è anche un po' più tempo però sono cose che si possono divulgare che si possono utilizzare perché sono attuali il linguaggio e quanto è stato fatto è talmente attuale e ci porta ai collegamenti che tra il 1886 e il 1896 tutto questo che oggi chiamiamo transizione ecologica parte e deriva da molto lontano da Aesion Tesla Marconi per le telecomunicazioni JP Morgan per la banca Ford Harry Ford in dieci anni quelli hanno messo in piedi un casino tale che oggi abbiamo qua e Camillo lì ha accolto il segno perché centimetri grammi secondi di cui noi siamo stati clienti per anni la fabbrica degli strumenti di misura corrisponde al nostro mestiere non ci occupiamo di misura perciò proprio c'è casca a cocco di pippa come si dice grazie lo approfondiamo anche questo tema dei libri assolutamente sì Giuseppe faccio a te la stessa domanda è un rischio è un rischio no 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 c'è un rischio il rischio è che corriamo tutti e che Olivetti soprattutto che Adriano Olivetti corre che è il rischio della beatificazione cioè è talmente tanta l'ammirazione per quest'uomo che si riverbe anche dopo 50 anni dalla morte insomma che è anzi 60 anni della morte che il rischio è quello di farlo diventare un santo e far diventare la formula che lui ha scoperto inventato diciamo e ha realizzato qualcosa di è bello no allora questo è un rischio che va eliminato allora dice perché se no si corre il rischio questo è un altro rischio di farlo diventare inattuale cioè proprio come un santo è talmente lontano dalla normalità che è inarrivabile inavvicinabile non è così l'eredità io spesso faccio corsi all'università sulla letteratura industriale e su quella olivettiana mi intrattengo molto e vi assicuro che i ragazzi di 20 anni che non sanno nulla di questa esperienza restano tutte le volte abbagliati e chiedono e vogliono informarsi e poi magari a loro volta si informano autonomamente quindi è un'esperienza che per quanto mi riguarda io diciamo se esiste una eredità io che vengo da un mondo che ho nel Piemonte è un mondo appenninico non industrializzato e sono approdato da 40 anni nella città di Milano vengo dalla Lucania che Olivetti ha molto amato che cosa a me rimane una è questa la grande attenzione all'uomo che è quasi commovente l'attenzione all'uomo è commovente l'attenzione alla persona umana ai bisogni e alla capacità di comprendere la persona umana un altro dato che mi che mi entusiasma le macchine non sono nostre nemiche Olivetti ci ha insegnato che le macchine che l'avventura che l'industrializzazione che le fabbriche non sono nemiche dell'uomo non uccidono l'uomo non danno tormento all'uomo possono diventare un luogo dove l'uomo si realizza e questo è una grande lezione perché il novecento invece non ce l'ha insegnato questo il novecento ci ha insegnato a odiare le macchine a farle a essere diffidenti verso le macchine e invece lui ci ha insegnato che le macchine tutte le macchine terza cosa e poi chiudo la fabbrica non è il capitalismo non è del padrone ma c'è una appunto una comunitaria un atteggiamento comunitario nei confronti della ricchezza nei confronti del denaro il denaro nel fine il denaro è soltanto lo strumento attraverso cui realizzare altro c'è qualche cosa che va oltre il denaro questa forse è la lezione più convincente cioè in un periodo come questo in cui il denaro è stato azzerato in cui abbiamo avuto abbiamo tutti tutte quante le nazioni tutto l'occidente che era imbattibile che era intoccabile si è ritrovato improvvisamente impoverito ecco la lezione di Olivetti insegna che il denaro non è il fine ultimo ma è semplicemente uno uno strumento se questo fosse compreso se questo fosse capito probabilmente noi occidentali con la nostra arroganza e la nostra intoccabilità ci guadagneremmo un po' di più e guarderemmo forse diversamente alcune cose che invece finora abbiamo disprezzato e che ora abbiamo scoperto ecco il denaro non è il fine è un mezzo è uno strumento grazie Giuseppe io direi allora visto che Olivetti ha fatto il miracolo che Giuseppe doveva andare via nel 19 non è andato via è vero ma aveva annunciato di andare in corso d'opera ho ricevuto una chiamata dicendo che non è più necessario e sono rimasto ottimo ottimo ciao Norberto tu ho visto collegato anche da parte mia e scusa ma fra 5 minuti veramente vado perché come sa Gaetano ho un treno quindi esatto va bene va bene ma io direi che allora in chat Pier non ho visto domande no neanch'io neanch'io ehm condivido soltanto le slide quelle che di presentazione visto che siamo l'ultima puntata di questo primo scorcio dell'anno un attimo allora così si vede immagino sì perfetto allora ehm direi che facciamo vedere in realtà questo percorso l'ha raccontato bene prima Gaetano dalla fabbrica alla digital farm poi siamo passati ad analizzare la lettera 22 e poi ci siamo spostati ai negozi showroom nel mondo e poi abbiamo parlato di comunicazione e certamente di lettering poi abbiamo messo a fuoco due macchine da calcolo o meglio due computer dell'EA 9003 e la programma 101 abbiamo parlato di compassi d'oro quindi di premi e siamo arrivati finalmente poi a toccare Ivrea Ivrea l'abbiamo fatto in due occasioni in realtà prima quando abbiamo parlato di architettura Ivrea città patrimonio mondiale UNESCO e poi quando abbiamo parlato di Casa Blu Olivetti quella che è stata appunto nel 2005 anche l'Interaction Design Institute di Ivrea casa di questa scuola mitica abbiamo parlato naturalmente anche di Valentine ce l'aveva prima l'ho vista Paolo Verri e poi il racconto Olivetti questo è stato un bellissimo incontro anche con una serie di persone che gli esperti di studiosi che si occupano di cinema che si occupano di documentari che si occupano di raccontare attraverso non soltanto i saggi ma attraverso vari mezzi diciamo così poi l'ultimo tema è quello di oggi appunto il tema comunità torneremo poi Gaetano tu che conosci il calendario quando? Settembre ottobre? Settembre ma io punterei punterei diciamo metà settembre adesso ci punterei anche magari a fare qualcosa dal vivo poi nei commenti ho letto che qualcuno diceva facciamo lo stesso lo streaming per chi non è eventualmente Ivrea sono totalmente d'accordo durante lo scorso anno durante il festival dell'architettura a Ivrea abbiamo fatto cinque eventi nell'auditorium di Casa Blu che abbiamo fatto anche in streaming proprio perché non poteva esserci quindi nel momento in cui si dovesse tornare a poter fare qualcosa dal vivo faremo lo stesso comunque anche lo streaming per dare la possibilità a chi non c'è o che abita altrove di poterci seguire io direi che comunque appunto con i canali social e con le newsletter per chi è iscritto alle newsletter dell'archivio daremo poi le informazioni aggiornate non penso prima della metà di settembre quello che invece possiamo dire è che durante l'estate e sicuramente quella parte di settembre stiamo lavorando a fare delle clip con gli estratti degli interventi dei singoli perché ormai abbiamo avuto più di una quarantina di ospiti e quindi per ripercorrere magari sui singoli argomenti i momenti i momenti cruciali e anche una pubblicazione e questo infatti ho lanciato a te il tema che raccoglierà diciamo gli atti chiamiamoli così gli atti delle comprese è così corretto e vi diamo ancora dei numeri abbiamo avuto 1393 iscrizioni nei primi dieci incontri spettatori live 876 sono tanti per dieci incontri una media di 87 più o meno view su youtube 1398 questo per dieci incontri insomma sono numeri importanti chiaro che adesso ci stiamo avvicinando all'estate ed è diverso ecco bene grazie a tutti ancora grazie Giuseppe grazie Paolo e grazie a nostri tutti dov'è Enrico Enrico sì grazie a voi ecco Enrico ciao Enrico grazie grazie davvero a voi grazie parliamoci dal vivo assolutamente sì per noi appunto è un percorso che non finisce ma vuole continuare in quest'ottica di condivisione di condivisione di costruire qualcosa quando dicevi il migliore il concetto è lo stesso abbiamo tante cose che è giusto che tutti sappiano bene grazie a tutti ancora grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti